Qualcuna di voi sa di un'esposizione d'arte qui in città? Sei tornato a Roma! Giusto il tempo di farti visita. Ezio, non mentirmi. Devo partecipare a un'esposizione privata di quadri di Leonardo. C'è un'esposizione a Castel Sant'Angelo in serata, ma ti servirà un invito. Fortunatamente so dove puoi procurartene uno. Ti garantirà l'accesso ai piani inferiori. Solo i cardinali possono salire di sopra. Sapevo di poter contare su di te. Sì, sì. Ti faccio accompagnare dalle ragazze. Buona fortuna e non farti acciuffare. La nuova bottega si trova oltre il Tevere, a Campo Marzio. Il consiglio rionale dice il contatore e gli augura tanta fortuna. Qualcuno dovrebbe andare in giro così. Il senato di Roma si afferra a tutti i romani e finché facciano attenzione... Ah, quell'invito non c'è. Lo consegnerò a sua signoria. Sono con te, fratello! Maria Benedetta! Lo vedo! Lo so, fermo! Preso. Lo so, fermo!